A Valbondione è iniziata la demolizione dei pilastri che avrebbero dovuto sostenere la centrale a biomassa dei Dossi. I lavori vennero avviati e mai finiti. Novità per l'ostello e la pista di fondo di Casa Corti trovato il gestore. Aleffe intervento di restauro alla statua della Madonnina. L'opera scolpita a fine 600 da Andrea Fantoni è ancora oggi oggetto di una profonda devozione. Gli ospiti di quattro reparti con le loro diverse esigenze tutti insieme al mare la scommessa approvata e vinta dalla Fondazione Cardinal Gusmini di Vertova. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. In apertura alla cronaca ancora un incidente stradale sulla provinciale della Valseriana. Sentiamo cosa è successo questa mattina a Clusone. Incidente stradale questa mattina poco dopo le 11 alle fiorine di Clusone lungo la provinciale della Valle Seriana. Secondo una prima ricostruzione una Volkswagen Polo guidata da un 28enne di Cerete diretta verso Clusone è stata tamponata da un pick-up Nissan. Dopo l'impatto il conducente della Polo è stato costretto a sterzare bruscamente per evitare un'auto che arrivava dalla parte opposta. La vettura è finita così contro il muretto di sostegno di una recensione a bordo strada. La dinamica è comunque al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto insieme a un'ambulanza del Corpo Volontari per Solana. Il 28enne non ha comunque avuto bisogno del trasporto in ospedale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Clusone. Lavori in corso ai dossi di Valbondione ma non per costruire bensì per demolire. È infatti iniziato l'intervento per riportare alle condizioni d'origine l'area in cui avrebbe dovuto sorgere la centrale a biomassa di STL. Almeno otto pilastri sono già stati abbattuti, gli altri seguiranno. La centrale a biomassa dei dossi a Valbondione finisce così con la demolizione voluta dall'amministrazione comunale. I lavori iniziati nel 2013 non si sono mai conclusi. Il fallimento di STL, l'ex società degli impianti di Lizzola, si è portato dietro anche quest'opera. Nel frattempo amministrazione comunale e curatore fallimentare hanno avviato il dialogo per decidere il da farsi e alla fine è stato trovato l'accordo. Il terreno è stato svincolato ed è tornato nella disponibilità del comune che ha potuto così dare il via al ripristino ambientale. La demolizione costerà circa 10.000 euro. Verranno abbattuti tutti i pilastri e il terreno sarà riportato alle sue condizioni d'origine. Resterà invece il muro di sostegno realizzato ai piedi della montagna. Quanto al futuro dell'area, la sindaca conferma che è intenzione dell'amministrazione metterla a disposizione per qualche iniziativa nel settore agricolo che abbia attinenza col turismo. Pubblicheremo un avviso di manifestazione di interesse in modo che chi ha idee possa farsi avanti, spiega ancora la prima cittadina. A proposito di turismo, in questi giorni il comune di Valbondione ha assegnato la gestione dell'ostello di Casacorti e della vicina pista di fondo. A fine agosto era stato pubblicato il bando e alla scadenza è pervenuta un'offerta risultata poi idonea. Della struttura si occuperà nei prossimi anni una famiglia di Lizzola. L'apertura dovrebbe essere a inizio dicembre. In questi giorni si stanno concludendo anche i lavori del comune per sistemare l'area esterna. Nuove regole in Lombardia per le professioni della montagna. Scopriamo cosa cambia per maestri di sci, guide alpine, maestri di alpinismo e accompagnatori di media montagna. Più preparazione e più selezione sono le parole d'ordine delle nuove norme regionali per le professioni della montagna. Il regolamento di attuazione della legge 26 è stato approvato dalla giunta. L'assessore regionale allo sport Antonio Rossi ha dichiarato che si dà il via ad un altro fondamentale tassello per lo sport e le attività motorie in Lombardia. Con questo regolamento la regione disciplina rilevanti aspetti relativi alla formazione delle professioni di montagna, maestri di sci, guide alpine, maestri di alpinismo e accompagnatori di media montagna. Vengono regolati anche i requisiti delle scuole e si normano alcuni elementi specifici concernenti le aree sciabili, le aree attrezzate, le piste e le regole di comportamento da osservare nella pratica degli sport sulla neve. La giunta ha voluto porre particolare attenzione alla valorizzazione delle professioni della montagna, richiedendo un livello più elevato di preparazione e valutazione per l'accesso. Il regolamento diventerà pienamente operativo con la pubblicazione sul bollettino della regione. Andiamo adesso all'Effe dove in questi giorni all'interno della chiesa parrocchiale manca la statua della Madonnina. Il gruppo scolpito da Andrea Fantoni che ritrae Maria e il Cristo morto è infatti in fase di restauro. Vediamo. All'Effe è in corso il restauro della statua della cosiddetta Madonnina. Ecco, raccontiamo un po' la storia anche di questa devozione a partire dal nome. Perché viene chiamata Madonnina? Viene chiamata Madonnina in senso affettivo, vesteggiativo. Noi come figli la chiamiamo per questa, per la nostra mamma celeste. Però tutto deriva da una statua preesistente in terracotta che c'era qua all'Effe già circa 200 anni prima. Questo gruppo è stato scolpito tra il 1690 e il 1694, ma nel XVI secolo, ovvero nel 1500, già c'era la devozione di questa statua che tuttora è nello scurolo nella parte sotto il presbiterio della chiesa. Pertanto era piccola rispetto a questa e di conseguenza viene chiamata Madonnina. Però c'è anche il discorso affettivo di figli. Poi diciamo che i contatti che ci sono stati presi con i fontoni era per creare un palchetto per la processione di quella statua in terracotta. Ecco, la statua è stata realizzata più o meno in che anni? Ripetiamolo. Allora è stata commissionata nel 1690 a Grazioso Fantoni, il papà di Andrea. Poi è stata realizzata tra il 1690 e il 1694 dalle note di archivio della Fondazione Fantoni di Rovetta. Nel frattempo è subentrato l'Andrea perché il papà Grazioso nel 1693 è venuto a mancare. Di conseguenza poi è stato lui, l'Andrea, a fare tutte le finiture, a realizzarla almeno nel libro Leffe e le sue chiese del mio amico Aldo Ghirardelli che è mancato un paio di anni fa. Ebbene chiarito ed è scritto come si sono svolti i fatti. Ecco, parliamo adesso con colui al quale è stato affidato il restauro della statua, Ivan Cattaneo. Allora, io sono stato interpellato dalla parrocchia di Leffe e da Don Giuseppe Merlini per valutare praticamente un intervento di restauro conservativo della statua della cosiddetta Madonnina. Allora, ho avuto un incarico sicuramente in primis dai volontari della parrocchia perché hanno esaminato negli vari spostamenti la statua evidenziando che c'erano dei piccoli forami nel legno e questi sono i presupposti per evidenziare della presenza del tarlo, noi diciamo volgarmente il tarlo. Dopo una prima analisi abbiamo poi fatto le varie procedure per interpellare e avvisare la curia di Bergamo e la sovrintendenza che ci sono prontamente poi prestati per l'eventuale richiesta di restauro. Come sta intervenendo sulla statua? Niente, stiamo intervenendo in modo molto semplice, ma applicando dell'antitarlo nella parte interna dove è svuotata e nella parte esterna con una siringatura e del cotone idrofilo per non fare danni, ripeto, al manto pittorico o al legno. Interveniamo molto cautamente. Ecco, Don Giuseppe, se è manifestata la necessità di intervenire su questa statua che rappresenta una devozione molto sentita dai leffesi. Come sappiamo, la quarta domenica di Quaresima inizia il settenario della Madonnina, così chiamata, e perciò tutta l'Efe partecipa in modo corale alle celebrazioni fino alla domenica, la quinta domenica di Quaresima, dove c'è anche la processione, tutti, anche i sacerdoti nativi, tornano per partecipare alle varie funzioni. L'ultima volta che abbiamo tolto la Madonnina dalla nicchia si è visto la necessità di intervenire e allora siamo partiti con le domande alla curia e alla sovrintendenza e poi quando abbiamo avuto l'esito positivo è venuto anche in loco il sovrintendente Gheroldi, molto disponibile, molto gentile, a dare anche lui dei consigli per il lavoro che era necessario fare per la conservazione migliore della statua. E al restauro della Madonnina di Leffe nei prossimi giorni dedicheremo anche un servizio più ampio all'interno del nostro spazio di Target. Proseguiamo con il telegiornale, prenderanno il via sabato, 30 settembre, le visite guidate proposte da Vivi Ardesio per scoprire il paese tra arte, natura e storia. Un appuntamento al mese, i prossimi saranno il 21 ottobre, l'11 novembre e il 2 dicembre, sempre di sabato. Vivi Ardesio, associazione nata da pochi mesi per la promozione di Ardesio in chiave turistica, si prepara a una nuova iniziativa delle visite guidate per far scoprire il paese. Sì, sulla scorta dell'esperienza positiva della stagione estiva appena trascorsa, abbiamo pensato di organizzare, anche se poi è bassa stagione, ma noi pensiamo di avere ad Ardesio cose belle da far vedere ai turisti anche in bassa stagione. E quindi abbiamo organizzato quattro visite, una al mese, una a settembre, ottobre, novembre e dicembre. Le abbiamo organizzate per il sabato pomeriggio, con inizio alle ore 15. Chiediamo anche un piccolo contributo di 5 euro per persona e 3 euro per i ragazzi e i bambini. E la prima di queste visite è proprio il 30 di settembre. Questo sarà un percorso, una visita nel settore storico, artistico o religioso. Quindi andremo a visitare alcune chiese che abbiamo qui nel centro storico del paese. E soprattutto ci soffermeremo sulle attività che ci hanno lasciato la congregazione dei disciplini, che è stata attiva fino alla fine del 1700 qui ad Ardesio. Mentre invece la visita di ottobre sarà centrata sulla visita a una contrada che è Piazzolo. Abbiamo tante contrade in paese, tutte sistemate, tutte molto belle da visitare. Adesso cominciamo con Piazzolo, ma perché non ricordare anche Ludrigno, piuttosto che Bani, piuttosto che Zanetti. E quindi ci sono queste realtà da visitare. Sono inserite in un contesto di magari opere, diciamo così, minori. Però molto interessante, molto da vivere per i nostri turisti o comunque per chi vuole conoscere meglio Ardesio. Là invece l'incontro, la visita di novembre sarà invece centrata proprio sul tema che è un po' classico del mese di novembre. E quindi parleremo della congregazione dei defunti che ha lasciato un'opera straordinaria nella chiesa parrocchiale. Ci soffermeremo davanti anche al monumento ai caduti, quindi il mese di novembre è un po' il mese che va a ricordare i caduti e i defunti. E quindi prendiamo questa occasione per puntualizzare alcuni elementi che abbiamo anche di artistici molto interessanti sul tema. Per quanto riguarda invece il dicembre stiamo verificando il tema da dare a questo percorso in modo tale da coinvolgere altri aspetti che pur magari essendo minori ma sono comunque interessanti. Adesso se saremo sotto magari le feste dell'Immacolata all'inizio di dicembre punteremo ovviamente sulla presenza del nostro santuario che ha avuto comunque anche una stagione estiva molto intensa, molto partecipata, quindi siamo piuttosto soddisfatti. Anche perché abbiamo notato parlando con i turisti, i visitatori che c'è appunto questo grande interesse. E abbiamo ospitato anche ad esempio una gita della classe. Si fanno ancora le gite delle classi, almeno in qualche località, ancora a Bergamasca. E hanno inserito Ardesio come meta. Hanno passato una giornata qui da noi e quindi vedendo cose interessanti sono andati via dal paese molto soddisfatti e contenti. Voglio solo ricordare che le prenotazioni per queste visite le prendiamo fino al venerdì, insomma se poi c'è qualcuno che si vuole aggiungere anche al sabato ma sarebbe meglio di venerdì. E queste visite guidate finiscono anche con un breve piccolo aperitivo offerto gentilmente da alcuni nostri operatori qui locali del paese, alcuni bar del paese. Quindi vi aspettiamo tutti. Sarà un fine anno all'insegna appunto di queste visite guidate molto interessanti. Ne abbiamo tante cose belle da offrire dal paese. Ci fermiamo per una pausa. Al rientro parleremo di un'esperienza speciale vissuta da alcuni ospiti della Fondazione Cardinal Gusmini di Vertova. E poi andremo a Gandino dove nei giorni scorsi c'è stata la festa dello sport. A tra poco. Riprendiamo con il telegiornale. Gli ospiti di quattro reparti con le loro diverse esigenze tutti insieme al mare. È la scommessa tentata e vinta dalla Fondazione Cardinal Gusmini di Vertova. Scopriamone di più. Si è appena conclusa un'esperienza nuova, inedita per la Fondazione Cardinal Gusmini di Vertova. Siete stati al mare. Esatto. Siamo stati al mare dove è la novità. Nel senso che la Cardinal Gusmini ormai sono 6-7 anni che porta i propri residenti al mare. Quest'anno volevamo scommettere e chiaramente alzare l'asticella qualitativa. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo scommesso su una vacanza un po' alternativa. Ovvero non abbiamo puntato su una vacanza di un solo reparto, ma abbiamo puntato su una vacanza e una settimana con quattro reparti. Quattro reparti decisamente molto diversi tra loro e la difficoltà e la scommessa stava proprio qui. riuscire ad integrare la quotidianità di una vacanza tra quattro persone che hanno i loro tempi, i loro spazi e che chiaramente ognuno chiede cose diverse. I quattro reparti erano il nucleo Alzheimer, il reparto geriatrico di Casa Serena, il centro di urno e il mantenimento psichiatrico. In tutto eravamo 23 persone. La scommessa l'abbiamo vinta? Assolutamente sì. Scommessa vinta nel senso che è stata una settimana all'insegna veramente della vacanza. Vacanza uguale libertà, dove ciascuno sceglieva che cosa fare, come farlo. E uno potrebbe dire, beh, andando in una struttura protetta al mare il problema non sussiste. Altra scommessa, noi non siamo andati in una struttura protetta, bensì in un albergo a tre stelle, condividendo la vacanza con un altro gruppo di Alessandria che era presente in albergo e che quotidianamente è stato al nostro fianco, divertendosi e passando momenti veramente molto, molto interessanti. L'obiettivo raggiunto è stato davvero quello dell'integrare quattro reparti di per sé totalmente diversi e far vivere veramente la vacanza a persone che alcune addirittura non avevano neanche mai visto il mare. Una vacanza salutata il venerdì in modo veramente eccezionale, con la disponibilità della proprietaria e del marito Emanuela e Piero dell'Hotel Sole di Dianio Marina, che davvero ci hanno accolto e coccolato per cinque giorni. E gli ospiti naturalmente sono stati seguiti da un gruppo di operatori della struttura? Assolutamente sì, nella fase organizzativa abbiamo studiato appunto la presenza per quanto riguarda il mantenimento psichiatrico di due persone, di un'infermiera professionale e di un OSS, l'Analia e Enza. Per quanto riguarda il nucleo Alzheimer c'era la presenza di Roberta che è un'altra OSS, per quanto riguarda il reparto geriatrico di Casa Serena era presente Raffaella che è un'educatrice di reparto e per quanto riguarda l'organizzazione in toto e l'organizzazione delle serate, l'animatore, il Raffa. Franco è uno degli ospiti che hanno partecipato a questa esperienza al mare, com'è andata? E' andata molto bene, ci siamo divertiti, siamo andati sul trenino, siamo andati con le parrucche, la musica, gridevamo alla gente che passava e poi si divertiva il mare, si facevano i bagni, io mi sono fatto la foto con la bagnina. Insomma ti sei divertito tantissimo. Sì, mi sono divertito. Fundamentale apporto e un grazie davvero infinito lo dobbiamo dare alla fondazione, al consiglio di amministrazione e alla direzione sanitaria e tutto il personale. sempre, sempre, sempre propensa a questi progetti, sempre propensa a scommesse nuove e che dà piena libertà a noi operatori. Quindi sicuramente è stata una scommessa vinta grazie anche a loro. Prima edizione a Gandino per la festa dello sport, iniziativa proposta dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco e diverse associazioni. Sono stati premiati anche i campioni del paese, ma scopriamo con quale obiettivo è stata organizzata la manifestazione. Con l'obiettivo di informare la gente di Gandino sulle associazioni che ci sono sul territorio, non solo a Gandino ma nell'ambito delle cinque terre, quindi Casnigo, Leffe, Peia e Cazzano. Ecco, quello che interessava a noi era proprio proporre gli sport per i ragazzi, per i bambini, visto che nell'era in cui siamo sono molto attratti da questa tecnologia, telefoni, e quindi è una cosa in cui vorremmo puntare. Nel pomeriggio abbiamo deciso di premiare alcuni sportivi di Gandino che hanno ottenuto dei risultati importanti durante l'anno, quindi abbiamo una campionessa regionale in arrampicata, una campionessa mondiale di arrampicata, campioni di sci da discesa, campioni dal nuoto, e abbiamo pensato che fossero un buon esempio per i ragazzi che praticano questi sport. Noi operiamo a Casnigo, nel polo scolastico di Casnigo, siamo 30 anni, è nell'85 che siamo lì, quindi passano parecchi anni, facciamo tutte le età, dai minimi di 4 anni fino ai 70, chi riesce, insomma, è comunque uno sport per tutti, non è uno sport per pochi come qualcuno pensa, quindi per ignoranza uno dice che è uno sport per pochi, è per tutti, per qualsiasi età, minimo ai 4 anni, dopo si fanno gare, chi vuole fare, chi non vuole fare, quindi è per tutti, insomma. È anche uno sport che vengono anche dai ragazzini, ragazzini, magari disabili, magari che hanno problemi, magari di cammino un po' male, la postura un po' non esatta, è comunque perché i dottori li vogliono fare quello sport, insomma, perché è proprio adatto per le sue difficoltà, insomma. Allora, proponiamo corsi di ginnastica artistica, ovviamente, partiamo con i corsi base, prendiamo le bambine dai 3 anni fino ad arrivare anche le medie e superiori, offriamo anche corsi avanzati, dove queste bimbe si allenano 6 ore alla settimana, corsi di preagonismo, dove le bimbe si allenano 9 ore alla settimana. Allora, questo sport diciamo che è completo, perché passiamo dai rotolamenti, quindi a imparare le capovolte, le ruote, le verticali, a camminare sulla trave, quindi è tutto un altro attrezzo, quindi equilibrio, coordinazione, movimenti molto armoniosi e trampolino, che sono diversi salti che possiamo affrontare, e quindi diciamo che è uno sport, non sempre si fa la stessa cosa, ma si fanno sempre cose diverse, molto varie, e quindi poi le bambine, anno dopo anno, imparano sempre cose nuove e vengono stimolate da tutto quello che facciamo, insomma. Si parla di gatti, questa sera nella nostra rubrica Quala Zampa, ascoltiamo i consigli del veterinario Stefano Gusmini. Vi ritrovate in un nuovo appuntamento con il veterinario, parliamo in questa puntata di Quala Zampa di rinotracheite dei gatti. Una rinotracheite significa semplicemente un'infiammazione del naso, a cui si riferisce la prima parte di questa parola che è il rino, ed è la trachea, quindi rinotracheite, infezione che colpisce il naso e la trachea, è virale perché è sostenuta da alcuni virus, principalmente sono due i principali virus che sostengono la rinotracheite virale nel gatto e quindi provocano proprio dei disturbi alla parte dell'apparato respiratorio che si trova più in alto, superiore, si chiama così, apparato respiratorio superiore, la parte del naso e della trachea. Come potete accorgervi della rinotracheite, il gatto tende a starnutire, avere un po' di scolo nasale, e se non si interviene curandola tempestivamente, l'infezione e l'infiammazione può estendersi, causando danni anche agli occhi, alla bocca e tutto all'apparato che circonda il naso. Il gatto quindi farà fatica a mangiare, proprio perché avrà anche disturbi a livello della bocca, farà sicuramente fatica a respirare come primo sintomo e quindi può dimagrire, apparire stanco e con un respiro affannoso quando si muove anche un pochino. Come curarla? Sicuramente bisogna tenere puliti gli occhi, disinfettata tutta la zona se si formano piago, se si forma qualche altro tipo di lesione, e il veterinario sicuramente interverrà con un antibiotico, eventualmente con qualche antifiammatorio o con qualche farmaco che riterrà più opportuno per ridurre appunto i sintomi, proprio perché i virus in realtà non vengono curati dall'antibiotico, ma diciamo così, si sostiene il gatto durante questa malattia. Ma la cosa più importante di questa malattia non è tanto la cura, ma quanto la prevenzione. Quando viene vaccinato un gatto, generalmente all'interno del vaccino è contenuto il vaccino appunto per prevenire la rinotracheite. Quindi gli episodi, soprattutto nei cuccioli, sono causati dal fatto che la mamma non era stata vaccinata o aveva fatto i richiami del vaccino della rinotracheite, per cui prima che questi gattini arrivino all'età in cui possono ricevere le prime vaccinazioni, vengono infettati dalla madre. Non è sicuramente difficile prevenire questa malattia, basta semplicemente seguire il protocollo di vaccinazione base del gatto, soprattutto delle gatte che andranno appunto ad avere dei cuccioli. Se vengono vaccinate regolarmente una volta all'anno, questa malattia non si diffonderà nei cuccioli. E quindi sicuramente date un'occhiata quando il gatto starnutisce, quando il gatto ha uno scolo. Prima di tutto controllate che le vaccinazioni siano state fatte in modo regolare e se la cosa persiste per oltre un paio di giorni, rivolgetevi a un veterinario che dopo aver preso la temperatura corporea del gatto, valuterà appunto se è il caso di intervenire con degli antibiotici, con degli altri farmaci di sostegno oppure altre terapie. Per questa sera è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Quala Zampa, la settimana prossima. Arrivederci! E per noi adesso una pausa e poi la parte finale. A tra poco. Verso la fine del TG, Sì, come al solito diamo un'occhiata ai programmi di Antenna 2. Questa sera sul canale principale alle 20.40, un nuovo appuntamento con il Sasso nello Stagno. Si parlerà del referendum per l'autonomia della Lombardia in calendario il 22 ottobre. Doni Tranquillo è stato all'Ef. Alle 21.25 la rubrica di Montagna e Outdoor Hard Track. Alle 22 la rubrica Buona Agricoltura. Alle 22.30 la seconda edizione del TG. Alle 23.15 tempi supplementari. Il canale News 218.00 alle 21.30 il telegiornale. Alle 22.10 l'anteprima Target. Questa sera un servizio dedicato ai 100 anni della parrocchia di Comenduno. Il Museo della Torre ha allestito una mostra e anche pubblicato un libro. Il canale sportivo 628.00 alle 20.30 la partita di calcio Albino Gandino-Luciano Manara. Alle 22.15 tempi supplementari. E proseguiamo con l'Almanacco. Domani è mercoledì 27 settembre. Il sole sorge alle 7.09 e tramonta alle 19.13. La luna è al primo quarto, sorge alle 14.10 e tramonta alle 23.38. La chiesa ricorda San Vincenzo de Paoli. Infine le previsioni del tempo. Domani su Alpi e Prealpi Lombarde. Poco nuvoloso al mattino. A seguire transito di nuvolosità medio-alta con possibilità di isolate, deboli, precipitazioni, temperature in lieve aumento. E con il meteo è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata. Grazie per aver guardato il video.